Rabbia e delusione sono i sentimenti dei lavoratori della ICOBLG che hanno manifestato davanti alla sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro al fine di richiedere un incontro col commissario Grimaldi, le parti sociali e i responsabili della società ICOBLG per discutere delle possibili soluzioni che l'azienda avrebbe potuto adottare evitando così di estromettere dal mondo del lavoro 15 padri di famiglia. I 15 lavoratori licenziati nelle settimane scorse dicono di non comprendere come mai si sia arrivato ai licenziamenti anche se in un incontro alla regione nel mese di luglio 2014 era stato siglato un verbale d'intesa tra l'amministratore delegato della società, i rappresentanti di CGL, Cisle, Guile e UGL con il quale si prendevano impegni a non licenziare nessuno dei lavoratori utilizzando uno degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge nello specifico il contratto di solidarietà difensivo. Tale soluzione sostengono i lavoratori e non si è concretizzata, non si è voluto tutelare i lavoratori e ICOBLG ha fatto una scelta incomprensibile per tutti noi mettendoci in mezzo alla strada invece che provare a salvare tutti. Non è comprensibile sostengono i dipendenti come in una terra già mortificata come la nostra Calabria si possa decidere di non superare la crisi senza l'ausilio di procedure che normalmente vengono usate per la garanzia dei lavoratori e delle loro famiglie. Alcune organizzazioni sindacali avevano insistito sull'applicazione degli ammortizzatori sociali che di fatto potevano dare ampio respiro agli ex dipendenti per circa tre anni ma la scelta irresponsabile di licenziare i lavoratori non ha risolto il problema anzi ha lasciato nella disperazione più assoluta 15 famiglie. La protesta ha portato l'autorità portuale ad assumere l'impegno che entro dieci giorni interverrà per aprire un confronto tra organizzazioni sindacali e azienda. Siamo disperati hanno aggiunto i lavoratori, non sappiamo più cosa fare per dare una speranza alle nostre famiglie. Confidiamo in questa disponibilità avuta nella mattinata di ieri e rimettiamo tutti i nostri buoni propositi nell'incontro che si terrà nei prossimi giorni.